All'interno di questa splendida cornice Urban Promo Green a Venezia ho parlato dell'esperienza che Fondazione Caripo ha avviato tre anni fa relativa a un programma di rigeniazione urbana delle periferie che si chiama La Città Intorno. All'interno di questo programma in particolare ho potuto raccontare quanto fino ad oggi è stato fatto grazie all'azione che si chiama Luoghi Comuni che va a lavorare appunto sull'attivazione delle energie delle comunità presenti all'interno dei quartieri su cui stiamo lavorando in particolare Adriano, Via Padova, Torretto e Chiaravalle al fine di attivare dei fatti di collaborazione per la presa in carico e la gestione dei beni comuni. In particolare la collaborazione tra l'associazione Lapsus e Italia Nostra sta permettendo di lavorare in collaborazione con l'istituzione pubblica comune di Milano e le numerose associazioni presenti su quartieri e vacanze citati alla nascita di fatti che hanno il compito di prendere in cura spazi aperti, spazi verdi, spazi incolti e attraverso semplici interventi di cura e rigenerazione da parte dei cittadini e delle associazioni coinvolte e trasformarli in orti condivisi, in aree di condivisione, in aree dove la qualità della vita possa essere messa al primo posto.